Ho una cena stalla sera con Isabella, Cristina e Valentina perché voglio mostrare la mia nuova casa. Anche il mio cuoco cucina una pasta meravigliosa. Ciao a tutti! Come state? Vi faccio vedere la mia nuova casa! Mi piace la nuova casa molto, le decorazioni sono belle. Si, e mi piacciono i quadri della camera di letto. Grazie mille, è ora di mangiare. Dove ho voglio? Accanto alla cucina. Grazie. Sì! La cena è delicioso. Grazie. Come la tua madre? Bene, e tu? Molto bene, grazie. Mi piace i gioeli. Oh, grazie! Scusi, il mio tappanino. Oh, sì, sì! Ciao! Oh, ciao! Ciao, mi dispiace. Oh, no problemo. Dovrei andare a mia casa. Anche io. Mi metterò le nostre giacche. Grazie per la colazione, Carlotta. Era tutto delicioso. Grazie mille. Grazie, ci vediamo presto. Arrivederci! Ciao! 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 Dove sono i miei gioeli? Non lo so chi ha preso i miei gioeli. Penso che una della ragazza li abbia preso oggi. Devo trovarli. Credους гоede più ovele? Seconda ragazza, aver guardatoיכalda. So? 加 emp La ragazza è giappdata che avobbi, tipo piccal di costura e l'assurale. Ci sono i miei gioeli? Diargo? Ci trovarli? La ragazza está simbili? Diargo? DiThankiamo? Diario? Isabella non è mai contenta con me, è probabile che lei abbia preso i gioelli. Carlotta, cosa stai facendo qui? Lo so che hai rubato i miei gioelli. Tu sei pazza? Quali gioelli? Qualcuno ha rubato i miei gioelli. Come hai potuto accusarmi di tale cose? Ho abbastanza di miei gioelli. Allora se tu non mi hai rubato, era Cristina ha rubato i miei gioelli. Credo che Cristina non ti abbia rubato. Penso che Valentina ti abbia rubato. No, lei non mi avrebbe mai rubato. Andiamo a vedere. Si. No, lei non ti abbia rubato. Cristina porta un agnello. Quell' agnello è mio. Possiamo chiederle. Cristina, tu hai rubato i miei gioelli. Sei fiori testa, non ti ho rubato. Qual è l'anello sulla mano? Quest'anello è la mia fede. Se l'avevo detto, Carlotta. Aspetta, che cosa sta succedendo? Qualcuno ha rubato i gioelli di Carlotta ieri sera. Vibule, hai chiesto Valentina se sa qualcosa? Non credo che lei ti abbia rubato, ma andiamo a vedere. Andiamo. Andiamo a parlare con lei. Ciao, come state facendo qui? Siamo venuti a ottenere i gioelli di Carlotta. I gioelli? Sì, tu hai rubato i gioelli di Carlotta ieri sera. Non è vero. C'era solo quattro persone a cena ieri sera e nessuno di noi era il ladro. Non l'ho fatto. Aspetta, che cosa porti sul colo? Questa colonna è mia. Questa è mia! Va bene, confesso. L'ho preso da casa tua. Perché dovresti farlo? Perché ha rubato il mio marito? Non posso credere che Valentina ha rubato i gioelli, come è terribile. Io e Valentina non siamo più amici. Non mi fido di lei. Valentina mi hai tradito. Sono contenta di aver rubato i gioelli. Ne valeva la pena. Farò vendetta un giorno. Andiamo a coesione? Sì, andiamo! Di aver rubato i gioelli. Ne valeva la pena. Questa nello è la mia fed... Non credo, Katie. No. 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 Ahahahah!